Si è svolta a Milano dal 16 al 19 settembre, OMI, la fiera dedicata agli stili di vita. Una nuova idea di fiera che ruota intorno alla persona, ai suoi stili e ai suoi spazi. Sono il titolare di Atena Gioielli, un'azienda che nasce oltre 30 anni fa come una sfida, come un'avventura. La sfida è l'avventura in questi termini, produrre gioielli fatti veramente in Italia, innanzitutto, con delle lavorazioni particolari, un po' diverse dal standard e innanzitutto con una filosofia, la filosofia dell'argento al naturale. Io sono una persona molto semplice, mi piace vedere le cose per quello che sono. Atena Gioielli, un'azienda che nasce oltre 30 anni fa come un'avventura.